Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video di Dragon Ball Xenoverse Ecco che andremo a fare le missioni parallele, quelle nuove Allora, l'ultima volta abbiamo fatto draghi malvagi Quindi adesso andremo a fare intento sinistro Questo qua è abbastanza facile ragazzi, come ricompensa danno gli abiti di Mirrettova E poi delle zette sole e tante altre cose Ok, comunque è abbastanza facile, non è molto molto difficile Vado a scegliere per forza dei personaggi forti perché se no qua perdo Quindi ragazzi vi consiglio di scegliere dei personaggi forti perché se no qua perdete sicuramente Sembrano debole ma sono abbastanza forti Ok, intento sinistro Sconvigemi di Mirrettova Stai fermo L'unico suo vantaggio è che noi facciamo quasi niente Per fare presto facciamo così va Oh, così Madonna mia Stai fermo un pochettino Ecco qua E' scappato via Scappato nuovamente Come vedete Come vedete è abbastanza resistente E' scappato via E' scappato via madonna mia carichiamoci velocemente ma per sbloccare bonus mi sa mi sa che dobbiamo scominciare prima tova e che non ce l'ho fatta appare Cosa stai a guardare? Cosa stai a guardare? Non ti dimenticare di farlo! Cosa stai a guardare? Cosa stai a guardare? Grazie! Arruame! Cosa stai a guardare? Arruame! Arruame! Perfetto! Arruame! Arruame! ok dai ok abbiamo concluso e abbiamo ricevuto anche un'abilità attacco speciale al proiettore temporale vabbè ragazzi il video finisce qui niente come vedete è stato abbastanza facile quindi non è che ci siano tante difficoltà allora intanto saluto anche le ultime due persone che mi sono rimaste nell'elenco hanno saluto a salvatore aletta antonio loprete e mario cascone ciao ragazzi grazie mi ha lasciato un bel like e un commento e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao